Natalità al minimo storico, mortalità sempre più elevata, società italiana dai profondi, radicali, complicati mutamenti, con l'Abruzzo in linea con le altre regioni della penisola, anzi con fenomeno lievemente più marcato. Su base nazionale il calo della popolazione è frutto di una dinamica demografica sfavorevole che vede un eccesso dei decessi sulle nascite, non compensato dai movimenti migratori con l'estero e l'Abruzzo non è una regione per i giovani, età media dei suoi abitanti pari a 47 anni, al di sopra di quella nazionale. Un allarme demografico che le proiezioni future segnano in rosso. Entro il 2070 la popolazione scenderà sotto il milione, nel 2049 i decessi doppieranno le nascite, società che cambia, famiglia in profonda crisi, l'analisi della sociologa Eide Spedicato Iengo. Se domina la disaffezione fra i coniudi, se domina la precarietà, se si ritiene che tutto possa essere sottoposto a un vorticoso buttamento e che le cose si possono cambiare senza investire risorse, è chiaro che c'è anche una sorta di sospetto nei confronti della realtà familiare. Non c'è più quell'impegno, quel carico, diciamo anche emotivo, di cui ha bisogno qualunque nucleo perché possa produrre delle situazioni di benessere. Diciamo che in questa nostra società c'è bisogno di stabilità e la famiglia dimostra fra le varie istituzioni delle profonde fragilità, proprio perché noi abbiamo retto a sistema non la solidità, non la costanza, ma la fragilità, la precarietà e diciamocelo pure, in tanti casi anche la non curanza nei confronti della sfera emotiva. Non ci si rende conto di quanto sia penoso, anche quando i matrimoni finiscono, quanto pesi o possa pesare a livello emotivo quella rottura, perché sono tanti gli elementi che vengono coinvolti nel rapporto affettivo.